Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, stranamente sono di nuovo qua con un gameplay di GTA 5, però questa volta sono nella storia, sono a casa di Franklin, perché devo farvi vedere un trucco veramente molto simpatico. Per poter fare questo trucco vi serve solamente il personaggio di Franklin, potete vestirlo nella maniera che volete, io purtroppo me lo sono ritrovato vestito in questa maniera scandalosa, io non so perché in questo gioco i personaggi si devono sempre vestire in maniera oscene. Comunque una volta che siete venuti qua nella casa dovete andare in cucina, come vedete in cucina ci sarà questa bottiglia di vino, voi dovete andare qua con Franklin, fargli bere un bicchiere di vino e mentre beve tenete premuto il tasto tondo o il tasto cerchio, o meglio schiacciatelo solo una volta, basta solamente una volta ecco. E dopo chi avrà bevuto succederà veramente una cosa molto molto particolare, io adesso proverò ad andare vicino alla bottiglia a vedere se mi lascia bere un bicchiere di vino perché non sempre vi lascia alla prima volta fare questa cosa qui, bere cioè dal bicchiere, voi se in caso se non vi capita fate un giro per la casa e poi tornate là e vi farà sicuramente bere dalla bottiglia. Adesso proverò subito. Oh eccoci qua, come vi avevo detto se avete visto la prima volta non mi è andata quindi ho fatto un giro per la casa e alla seconda volta mi è venuta l'opzione di bere qui dalla bottiglia. Come vedete io adesso sto schiacciando il tasto cerchio, siete pronti? 3, 2, 1. Ed ecco qui Franklin ragazzi, veramente cattivissimo, guardate che maschera, davanti c'ha questa specie di boccaglio che sembrerebbe che potrebbe anche sopravvivere per così dire sott'acqua. Guardate ha cambiato completamente tutti i vestiti, questo qui è veramente un trucchetto molto molto simpatico perché questa maschera qui non la trovate da nessunissima parte, ho provato a cercare anche nell'online qua nella storia ma è veramente introvabile questa maschera, guardate qui che cattiva che è. È veramente una cosa, ribadisco, molto molto simpatica, adesso proviamo a vedere se nella piscina sopravvive o no, vediamo, sì no non serve a nulla perché c'è il respiro che cala sempre di più, quindi non serve assolutamente per trattenere il respiro. Comunque è veramente una maschera, ribadisco, cattivissima, fa il personaggio ancora più cattivo ed è molto molto simpatica questa cosa qui. Quindi ragazzi, con questo breve video io finisco qua, spero che vi sia piaciuto anche perché altre cose da dire non ce ne sono, ditemi nei commenti cosa ne pensate, se questo video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, condividete il video ragazzi, passate anche nella pagina facebook, quindi qua da Bistard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.